Un pescatore indagato per la tragica morte di Mario Deustacchio, il 63enne travolto sabato sera da un'imbarcazione mentre nuotava nel mare di Silvi. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava facendo una delle sue consuete nuotate lontano dalla riva, quando una piccola barca da pesca lo ha investito. L'incidente sarebbe avvenuto sul cosiddetto corridoio di lancio, ovvero il tratto di mare che le imbarcazioni percorrono per raggiungere il largo. Il pescatore al timone, infatti, stava uscendo a calare nasse e reti. Ciò che è certo è che è stato proprio lui ad allertare la capitaneria di Porto. Per il momento, intanto, l'insidioso, la piccola barca in questione, è stata sequestrata e il pescatore indagato per omicidio colposo. È stata disposta l'autopsia sulla salma di Deustacchio. Bisognerà accertare se sia morto a causa delle lesioni provocate dall'elica della barca o se sia stato ucciso da un malore in acqua.